Mi onora questa presentazione e ancor più essere stato invitato a fare una premessa a questo bel libro di Pier Maria Mazzola sulle strade dell'utopia di Don Tullio Contiero. È stata, come ho scritto, una piacevolissima esperienza che sento riflessa qui in questa serata nelle parole meravigliose di chi l'ha conosciuto come il Rettore Magnifico, come la realtà della Chiesa bolognese che ne è fiera, pure la diversità di fatica e di scelte quotidiane, e poi dalla lucida presentazione del giornalista del Regno che ha seguito come competente il cammino evolutivo di quest'uomo, di quest'uomo di Dio. E per parte mia ritengo che veramente questa esperienza di questi testimoni ci aiutino tantissimo oggi nella nostra vita ad essere capaci di entrare con un segno ma di uscire, come diceva lei, con un coraggio più grande. Perché ci aiutano e quello che io vorrei stasera delineare, anche se in maniera ovviamente inadeguata rispetto a chi l'ha conosciuto, Don Contiero, io non ho avuto questa gioia se non tramite gli scritti, ma mi piacerebbe cogliere alcune linee, un metodo, per cui questo incontro non è solo ricordare, ma un ricordare per vivere, un vivere per poter portare anche in questo momento delicatissimo della storia d'Italia, in questi giorni si decide un cammino preziosissimo ma anche importante davanti alle tante sfide del futuro, in questa dimensione qual è in fondo il compito di chi ha questo dono grande della fede da portare, o comunque gli uomini di buona volontà che desiderano contribuire alla crescita del paese. Ed è bello fare questo incontro dentro l'università, sia per il ricordo di Don Contiero ma anche perché qui sono i luoghi in cui si progetta il futuro, si guarda avanti ed è anche per questo per me un grande momento di onore poter dire alcune cose che ci possono aiutare. Certamente parto da tre punti teologici che mi sembra importante porre come fondamento, proprio perché sono parole grandi quelle che lui ha scritto, nate da un cuore innamorato di Cristo che ha sentito nella fede la ragione della sua vita. E sono questi che ho elaborato anche per la Diocesi di Campobasso, frutto di tanti anni di esperienza, come è stato detto, lungo la strada del Sud. La prima parola è quella che io imparai da un missionario molti anni fa. Ora, poiché siamo figli di Dio diventiamo fratelli, ve la ripeto, poiché siamo figli di Dio diventiamo fratelli. Figli si è sempre, anche quando si è indegni, anche quando si scappa di casa, anche quando non si riesce a coltivare una relazione positiva con il proprio papà, figli si è sempre e questa correlazione con l'esperienza di figli dà dignità alla persona, ad ogni persona, ad ogni persona e quindi nel cammino, nel volto di ogni persona è presente il riflesso della presenza stessa di Dio. Ma poiché siamo figli diventiamo fratelli ed ecco la sfida della società. Non si è fratelli, si diventa fratelli, ma non si diventa figli, si è figli. Ve lo ripeto perché è decisivo anche nella realtà di oggi, specialmente nella realtà di oggi, davanti alle situazioni più grandi della mondialità. Poiché siamo figli diventiamo fratelli e si riscopre il dono del battesimo. Proprio stamattina noi abbiamo fatto come diocese una riflessione con i sacerdoti su questo tema. Il battesimo ti dà quell'impronta di figlio in Cristo Gesù che diventa radicalmente riconosciuta dal Padre per poter essere riconosciuta dall'altro. Il secondo punto teologico è quello che raccoglie il decennio educativo della CEI. Costruire una comunità dove l'altro non è un limite, non è tuo limite, ma tua pienezza. L'altro non ti limita, ma ti completa, ti costruisce, ti realizza, ti dà la capacità di essere autenticamente te stesso. Tu da solo non ti puoi costruire, hai bisogno dell'altro. L'altro perciò non ti è fardello, ma ti è fratello. Questa bellissima poesia antica di una bimba che portava con fatica il suo fratellino sulle spalle, il poeta la incontra e dice ma bimba mia non fai fatica, non ti costa, non ti pesa. La bimba risponde no, non mi pesa, non è un fardello, ma è mio fratello. Questo è il punto nodale, sono la spiritualità di contiero, capite? Figli, fratelli e perciò l'altro mi completa, mi diventa potenzialmente, potenzialmente, realmente capace di darmi tutto quello che io sono. In questo senso, la grande intuizione di Don Contiero, di cui siamo grati sempre di più, anche per tutta la nostra società, è la preziosità della fragilità. La fragilità diventa preziosa, la fragilità sociale, ma anche la fragilità personale, cioè il sentire che le ferite della vita sono capaci di diventare eloquenti. E qui perdonate una mia esperienza personale che mi ha aiutato tantissimo. Io appartengo alla congregazione religiosa dei preti delle stigmate di Gesù che è stata istituita a Verona due secoli fa da un santo prete, San Gaspare Bertoni. Lui ci ha dato come immagine un Vangelo che ritroviamo vivissimo nella vita di Don Contiero. Quando Cristo, il giorno di Pasqua, appare nel Cenacolo. Manca però Tommaso, sapete la storia, no? Tommaso si offende e dice «No, tu mi hai lasciato fuori gioco, mi hai dimenticato». Allora lancia una sfida, dice «Io ti voglio incontrare perché io voglio credere in te solo se metto le mie mani, il mio dito dentro le ferite». E Gesù accetta la sfida, entra otto giorni dopo a porte chiuse in quel luogo, nel Cenacolo e dice a Tommaso, quelle tre parole meravigliose che sono un cammino, quando gli dice «Guarda le mie ferite, stendi la tua mano, non tenerla ferma, mettila dentro, le ferite» e quelle ferite si aprono con la forza dello Spirito Santo e Gesù è riconosciuto come figlio di Dio, come risorto, proprio dentro le ferite. E il Papa commentando questo, Giovanni Paolo II, ci ha dato una frase bellissima che mi ha aiutato sempre nella mia vita. è questa, trasformare le ferite in feritoie, le ferite della vita, le ferite del dolore, le ferite dei nostri peccati, le ferite dei poveri, dell'handicap, trasformarle in feritoie di grazia. Ecco, questi tre principi teologici, permettete che ve li ridica, sono il fondamento del cammino di Don Contiero, ma anche nostro come Chiesa oggi. Figli di Dio lo siamo, diventiamo fratelli. Secondo, l'altro non ti è limite, non ti è fardello, ma ti è fratello. Terzo, le ferite diventano preziose, le perdite, il momento difficile, l'handicap, la povertà, le mie stesse ferite, le realtà della vita, e le ferite, sapete bene, non si possono fintamente coprire. Non crediamo a quella falsa attestazione che qualche volta ci viene detto mettici una pietra sopra, è un inganno atroce, non si può mettere una pietra sopra le ferite. Le ferite non vanno mai nascoste, né fintamente risolte, ma vanno solo trasformate. E si trasformano solo se tu metti dentro le ferite la tua mano, il tuo dito, la tua esperienza, e ti incontri col dolore. E ora la ferita diventa feritoia. E da dolore diventa speranza, da ferita sanguinante diventa feritoia di luce. Ecco, perché questo? Perché in fondo Don Contiero questo l'ha scoperto in maniera grandissima. Quando scopre che le periferie di Roma diventano la capacità, le borgate, di aiutare i borghesi, lui giocava molto su questo termine, no? Le borgate di Roma sono scuola per i borghesi che vanno nell'Istituto Santa Maria dei Padri Marianisti, scopre e dice, i ragazzi capiranno chi è Gesù, non dal libro, non dalla scuola di religione, ma dalle ferite della storia. E la stessa cosa per l'Africa. L'Africa diventa la ferita mettendo in questo nostro dito i ragazzi di Bologna, i borghesi di questa città, come lui li chiamava in maniera ovviamente provocatoria, con il suo stile rude, ma positivamente capace di stimolare. Ecco che allora questa prassi di conoscenza è decisiva anche nella nostra vita di oggi. Ed è questo, guardate, secondo me, uno dei nodi centrali anche a livello culturale della realtà sociale e politica di oggi. Perché sempre di più la nostra società tende a immarginare, tende a escludere, tende a non riconoscere. Ora la scuola di vita che ci ha dato Don Contiero è proprio questo, fare in modo che le ferite, i feriti, i poveri, le persone più fragili, le nostre stesse realtà divengono occasioni di grazia e di luce. Quello che è stata e che è ancora, perché so che i viaggi in Africa continuano, ovviamente con la medesima intensità, anche se guidati non da lui, ma dalla scia di luce che lui ha creato, creano una coscienza in chi vive questa esperienza, così tornando, lui lo dice benissimo nel suo libro, chi torna non dovrà guarire le ferite dell'Africa, ma il cuore duro dell'Occidente, il cuore duro dell'Africa, non dell'Africa, ripeto, ma dell'Europa bianca, che diventa sempre più egoista e sempre più chiusa. Ecco perché allora l'esperienza che questa realtà dice, io l'ho vissuta, ecco perché ho detto mi sono ritrovato, in due momenti della mia vita.